Nasce il Parco del Po piemontese. Il Consiglio regionale ha approvato con 24 sì e 5 no il disegno di legge, modifiche normative e cartografiche al testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità e istituisce il nuovo ente parco. Previsti 10.000 ettari di aree protette in più. In arrivo anche una cartellonistica rinnovata e novità cartografiche necessarie per dare conto del nuovo assetto. Questo provvedimento vuole fare sì che l'ente parco del Po possa rappresentare veramente quelle che sono le istanze che arrivano al territorio e che noi riteniamo siano enormi potenzialità. Va a realizzare quello che era un obiettivo importante già stabilito che era quello comunque di ampliare, e razionalizzare il sistema delle aree protette piemontesi a gestione regionale. Questa è una norma che non tiene conto delle volontà di chi vive il mondo che abbiamo vincolato precedentemente o con questa legge che non tiene conto delle popolazioni che lì vi operano, vi vivono, vi lavorano, ma che tiene conto di una ideologica idea di tutela ambientale che fa solo del male ai nostri territori. È cambiata la prospettiva e i parchi non sono più visti in una logica di vincolo ma in una logica di opportunità. Allora in questo senso è un disegno di legge che apre anche nuove prospettive. È un segno di un cambiamento di cultura e di mentalità che ci fa ben sperare.